Oggi viene presentato a Sisi Suono Sacro, quali saranno gli eventi clou di questa quarta edizione? Allora sì, è la quarta edizione, gli eventi clou sono, ma più che eventi, anche le idee, diciamo, clou, alle quali tengo particolarmente. Abbiamo per la prima volta i corsi musicali estivi dedicati alla formazione e alla ricerca del musicista illuminato e quindi è una sorta di introspezione che deve fare l'artista e il musicista per trovare in sé l'ispirazione giusta. E quindi dal primo al set ci saranno questi corsi musicali estivi con docenti internazionali con un'ampia offerta, diciamo, di corsi. Poi ci sono vari incontri, fra l'altro anche una tavola rotonda sull'artista illuminato in cui si cercherà di approfondire questo aspetto. Poi ci sono concerti con, per esempio, un gruppo di New York, di Dan City, e l'Associazione dei Compositori di New York con il quale collaboreremo il 22 luglio. Poi sempre dai Stati Uniti la Philadelphia Opera Theater con uno spettacolo su Will de Garfunbingen alla Basilica di Superiore di San Francesco. Poi due cose molto carine, interessanti, simpatiche, dedicate alla natura. Quindi dal 31 faremo una camminata sul Subasio e al termine del quale ci sarà poi un concerto. Poi al Fai faremo una giornata dedicata agli animali. Quindi tra il pubblico ci saranno gli animali, verranno, sfileranno gli animali per i quali poi suoneremo per loro, per riconciliarsi proprio con i nostri fratelli minori, diciamo. Poi altri eventi, insomma, sono una quindicina di appuntamenti dal 21 luglio al 7 agosto. Chiedo scusa, l'ultima battuta, una collaborazione col Festival Cracovia Sacra e con il soprano Dominica Zamara che faremo il 25 luglio. Da dove nasce l'idea di creare un festival dedicato alla musica sacra? Beh, ovviamente dalla nostra terra, dalla nostra cultura, dalla poetica di San Francesco che ha insegnato all'umanità tante belle cose, tra cui anche attraverso la musica noi cerchiamo di prendere il suo messaggio e approfondire questo aspetto. Appunto da qui nasce l'idea del musicista illuminato, quindi ispirato. L'idea del musicista illuminato, come appunto ci ha detto, che cosa è il musicista illuminato, se si può dire? Certo che si può dire. Ovviamente è una ricerca. Diciamo che cerchiamo quella giusta ispirazione affinché il musicista non sia più una tra le tante copie che uno suona come l'altro ma che sia ciascuno originale e individuare in se stesso e abbia dentro di sé la propria luce tra virgolette, quindi emotivamente ispirato. Quindi cercheremo qual è questa ispirazione e poi la cerchiamo di tradurre in musica sia per interpreti che per compositori o comunque musicisti in genere. In ultima battuta abbiamo capito appunto che la location che ospiterà la manifestazione sarà a Sisi. Quali saranno però i luoghi precisi o almeno degli eventi principali di questa edizione? Sì, dunque avremo la Sala delle Volte che è una sala comunale dove anche lì incontri, dibattiti, eccetera. Poi la serie dei concerti saranno la Basilica Superiore di San Francesco, la Chiesa di Santa Maria Maggiore, il Fai, il Bosco di San Francesco, lì al Terzo Paradiso, poi il Monte Subasio, poiché altro. Più o meno sono questi qua.